Ennesima finale conquistata dal Montesilvano, che tira fuori il meglio che è in corpo e sbanca il campo del kick-off in gara 2 dopo l'inopinato 0-0 dell'andata. Un 9-2 che parla da sé, dice di tutta la forza di un gruppo che troppe volte avrebbe meritato di ottenere di più, ma la volontà non sempre basta. Stavolta non c'è stata storia e gli abruzzesi riescono a esprimersi secondo effettivo potenziale. A sbloccare dopo 5 minuti è l'Ursilea, l'intramontabile che va verso i 40 e che di gol ne metterà segno alla fine 3. Le altre firme, doppiette di Ortega e Sciascio, più Amparo e un autorete dell'ex Pomposelli. Poi la corazzata di Gonzalo arrotonda fino al 4-0 e il riposo accorcia la Berta Vecchia Conoscenza. Ripresa ancora a senso unico e capitolo chiuso trionfalmente. E ora si punta lo scudetto, sia pure contro l'imbattibile Falconara che ospiterà le Montesilvanesi domenica 6 in gara 1 con senza il Colosso Tati per poi giocare al Palarigopiano gara 2 domenica 13 giugno. Eventuale Bella in terra marchigiana domenica 20.